Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Yorkball e oggi siamo qua con questo video su questo nuovo canale Ho deciso di cambiare canale per un motivo, perchè l'altro Cioè, il nome era diciamo un po' troppo complicato e andando sulle impostazioni non me li faceva cambiare Perciò ho deciso di aprir questo nuovo canale e di cominciare subito, si ricominciava prima con i video Oggi, visto che ragazzi non sapevo se ricominciare la serie di Call of Duty Black Ops Faccio un'altra serie che si chiama Draglade 505 Games Cioè ragazzi, io devo ricominciare subito, poi alla fine di questo video vi devo dire una cosa Non è una cosa importante, però c'è veramente una cosa Basta con queste canzoni cinesi mi fanno salire il razzismo Devi fare subito storia Di scegliere il personaggio di Ragazzi, c'è il fuoco C'è il fulmine, c'è la terra, c'è l'acqua Io faccio a caso Acqua Proviamo con un altro Fuoco Facciamo il fulmine Vuoi cominciare con questo personaggio? Sì Lo chiamiamo Guy Non mi è a caso completamente così Ragazzi, questa parte è l'assalto Perché diciamo è un po' inutile Volevamo essere potenti Più potenti di chiunque Altaro Perciò continuiamo a usare il potere oscuro che avevamo scoperto Per caso senza renderci conto quanto che fotte me ne sega Ragazzi, avete presente i giochi tipo Tipo The King and Justice Questo è tipo quelli però Un pochino più brutto però C'è ragazzi C'è una storia abbastanza bellina Perché Alla fine c'è un piccolo boss Abbasso un po' di volume Che se no non si sente una minchia di ceppa Questo personaggio sa pure volare Mi sembrava Ecco si sa volare E che cazzo E che cazzo Gli scolpi di merda No mi vuole inculare No, 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 no Oh, finalmente Ma che cazzo Gesù Non fare risorgere la gente a caso Merda Che io ti Basta Eh ma quella spada Proprio in culo Te la devi mettere Muore Basta Sono tanti Finalmente Ma mica Proprio Gli ho tirato un colpo in testa Che è morto C'è Adesso cosa dovrei fare Eh, buh, non lo so Fammi fare questo Benvenuto nel centro Ah, mi voglio iscrivere all'esame No, ti consiglio di non farlo Qua non si può saltare Io facciavelo Ho saltato Vabbè ragazzi Io faccio subito Ah, non si muove No, no, no Non devo parare Eh, eh Non mi paro Dai un altro colpo E muovi Vieni, sono qua Sono qua Sono qua Bravo Però potremmo Spermiamela Quella di mettermela in testa Come 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 Ah Ragazzi Ragazzi Io vi ho sempre detto Quando vostra madre Vi dice di portare L'ombrello con voi Fatelo Perché pioverà E quando piove Cioè piove Avete visto anche voi Sta piovendo No che sarà Che cazzo Quando vostra madre Dice che piove Portate l'ombrello Perché cazzo Guarda come piove Merda mamma Non ho portato l'ombrello Fotti sega Ah No ma Che cazzo Ah sta Visto Il cazzo Ma poi Il mio italiano Pur la canzone Mi fanno fare Bravo Grazie Grazie Ma proprio così Gli spacco la testa La canzoncina Ma può che C'è la gara Eh No Io ti ammazzo Con la canzoncina E basta Eh ma certo Che questo è più forte Di me 10.000 amiche Ma morte Cioè ragazzi A sfidare uno Come questo Non è impossibile Ah ma proprio Devi fare il stronzo Con tutti Eh ma tua mamma È veramente Brava Cioè Hai presente Quella gran Troia di tua mamma Non Troia Non Troia No perché Troia Non No Hai presente Tua mamma Ecco È così Crasa Che non riesce A passare Dalla volta Tuo padre Tuo padre Dovrà Quanto L'arciere Di clash of clans Perché è una merda C'è Ma la canzoncina Ma la canzoncina Ma la canzoncina Valla a suonare una Vuoi fare Madonna Ragazzi Un'idea Nel prossimo episodio Nel prossimo episodio Cercherò di fare Una canzone Tipo da dj Per questo personaggio Mio Perché almeno Se non rompi Coglioni sto qua Se presto ce la Faccio Finalmente Ragazzi Questo video Ho intenzione Di farlo durare Dieci minuti Quasi dieci minuti Iper si grazie Ora schifo 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 Bravo 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 Bene Bene Non devo andare No Non vado Quando non si può Schifare È una cosa odiosa Sentite come pigio Manca pure Trema pure Il telefono Da quanto Cazzo vuoi Cioè ma questo qua C'ha tipo Uno sguardo D'assassino Cammina tipo Ah 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 Ti sto parlando Mentre dormi Non poi riesce A camminare Così come Un bug Ragazzi Date una medaglia A sto uomo Che cammina Così No Non ci voglio andare Ragazzi Io direi Che per questo Epsodio Può essere Tutto Grazie per la visione Lasciate un like A questo video Un commento E Iscrivetevi al mio canale Se non l'avete ancora Fatto Grazie per la visione Ciao Ciao No No Non aspetto Ho un'idea Voglio trovare un altro saluto Entro il prossimo episodio Perciò nel prossimo Al posto del Buon vecchio Ciao Ciao Se non riesco a trovare un'idea Che l'avevo Che l'avevo anche Hashtag Hashtag Vecchia Vecchia va in pensione Mi raccomando Lasciatelo Dobbiamo praticamente Sfondare I commenti Con hashtag Vecchia va in pensione Fatelo Mi raccomando Grazie per la visione Ciao 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 Ciao